Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Frattojani è oggi in Abruzzo per una serie di iniziative e di incontri. È possibile firmare per la cosiddetta Next Generation Tax. L'unica proposta è stato detto che guarda il futuro del paese. Sinistra Italiana intende utilizzare i proventi della tassazione sulle grandissime ricchezze per fare il più grande investimento pubblico sul futuro che l'Italia abbia mai conosciuto, ovvero garantire le migliori opportunità alle giovani generazioni. Questo è stato ribadito da Sinistra Italiana. Tra gli appuntamenti di Frattojani è anche un sopralluogo alla riserva regionale della pineta danunziana di Pescara gravemente danneggiata dall'incendio di agosto e un incontro assemblea con le associazioni ambientaliste. L'importanza dell'ambiente, ormai credo che tutti lo abbiano capito, è il futuro di questo pianeta o meglio della nostra specie su questo pianeta, tutelare l'ambiente che ci circonda specialmente quando si ha la fortuna in un territorio come questo di avere una straordinaria grande riserva dentro l'ambiente urbano. Non capita a tutti, è fondamentale farlo rispetto alla tragedia che ha colpito questa riserva poche settimane fa con l'incendio che ne ha devastato quasi un terzo ma anche farlo evitando di immaginare che si possa dare corso a progetti del tutto irragionevoli come quello su strada Pantini, l'ipotesi di tagliare decine e decine di alberi di pregio di grande importanza che costituiscono una barriera a protezione della riserva per allargare una strada mi pare francamente irragionevole. Io ho presentato un'interrogazione ormai da diverso tempo, sono in attesa purtroppo come accade spesso di una risposta che non è mai sufficientemente puntuale mi auguro che la risposta arrivi e che sia utile e sponda per il lavoro dell'associazione ambientalista che su questo fronte hanno in questi anni, in questi mesi costruito una giusta battaglia.